Albano Carrisi e Romina Power mano nella mano. Immediato il commento di Loredana Lecciso. In questi anni abbiamo avuto modo da vedere spesso Albano Carrisi nel mirino delle news per via del triangolo amoroso con Loredana Lecciso e Romina Power, le due donne più importanti della sua vita e che gli hanno donato la gioia di diventare padre. L'amore per il cantante di Cellino San Marco è sempre stato il perno di tutto. Un sentimento così forte che ha influenzato la vita come l'arte. La dimostrazione di quando detto è contenuta nel fatto che l'artista ha dedicato a ognuno dei suoi figli una canzone che parli di loro. Nonostante questo i fan ancora si chiedono chi, tra Loredana e Romina Power, si trovi al suo fianco nel quotidiano. L'eterna faida tra le due donne della vita del cantante sembra essere un qualcosa destinata a far parlare di sé sempre, nonostante le cose, a volte, sembrino essere molto chiare. A tenere banco nel mondo del gossip, troviamo l'avviamento di Albano e Romina mano nella mano. Possibile che nel cuore di Albano ci sia posto solo per Romina Power? L'amore per la coppia di cantanti è stato quel sentimento che li ha tenuti sempre insieme, la chiave del successo e la spiegazione di ogni canzone. Ma inutile negare come anche la presenza di Loredana Lecciso sia evidente nella vita del cantante come dimostrato dalle foto che la donna spesso condivide sui social, e che sembrano essere una chiara risposta a chi vede Albano solo al fianco di Romina Power. Loredana Lecciso ha avuto modo di raccontare il nuovo rapporto che la donna ha instaurato con Albano Carrisi in questi anni, nonostante le continue crisi che hanno investito il loro rapporto. Non a caso, Loredana Lecciso in occasione di una lunga intervista rilasciata a chi ha dichiarato. Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui. Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Se venti anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso. Ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene. Vivo un momento felice. Dopo Sanremo c'è il cinema. Romina Power torna a recitare in un film, dopo essere stata protagonista negli anni sessanta dei musicarelli accanto all'ex marito Albano, oltre che è che nella serie tv Sandokan. Adesso è sul set di Neymar e Alley, la nuova pellicola di Guillermo del Toro, regista messicano premio Oscar per la forma dell'acqua. Lo si è appreso quando la Power ha condiviso su Instagram una foto in abiti da scena, elegante, con un cocktail in mano. Sorseggiando un martini analcolico, ha commentato. Una notizia inaspettata dai fan, un grande traguardo per lei, un orgoglio per la famiglia. Il film, tratto dall'omonimo romanzo, 1946, di William Lindsay Gresham, racconta di un giovane ambizioso abile nel manipolare persone, che si unisce a un Luna Park itinerante, allo scopo di imbrogliare i clienti. Nel cast ha anche Bradley Cooper.